amici e amiche di good shopping ben ritrovate in questo show televisivo che rappresenta come sempre il bello e il buono della vita ci può ben essere piacere le nostre parole d'ordine oggi ci occupiamo di vino il vino delle cantine teanum vengono dalla puglia e qui con me c'è angelo ciao angelo benvenuto ciao ciao loro si occupano proprio di realizzare dei vini fantastici che arrivano da questa terra che offre tantissimo proprio per la produzione di questo vino meraviglioso cantine teanum puglia puglia ma gargano parliamo della zona lì ai confini con il molise e la campagna infatti veniamo da san paolo di civitate piccola chicca aneddoto sul nome dell'azienda cantine teanum perché teanum abbiamo cercato di dare come dire onore al nome della città perché teanum apulum era il nome della città ai tempi dei romani da teanum apulum a puglia puglia alcuni storici pensano che addirittura il nome dell'intera puglia derivi proprio dalla mia città fantastico vedi che luogo importante abbiamo scelto per lo show di oggi e allora presentiamo le bottiglie che abbiamo oggi a nostra disposizione e cominciamo dal primo un vino bianco un misto tra chardonnay e falanghina allora un misto di chardonnay e falanghina perché puglia terra di rossi ma abbiamo anche delle belle rappresentazioni di bianco in particolare qui abbiamo cercato di unire le puglie perché abbiamo combinato lo chardonnay tipico del sud della puglia al falanghina invece altrettanto tipica ma della parte più a nord ne viene fuori un blend dove lo chardonnay fa un po di barrique quindi un leggero affinamento in legno e la falanghina che fa solo una leggera vinificazione in acciaio meraviglioso al prezzo di 9 euro e 50 due bottiglie che portano lo stesso nome sono le prossime negro amaro ovvero questo è il nome soltanto che una fish dedicata al pesce l'altra meat anche questa al prezzo di 9 euro e 50 la caratteristica è che sono entrambi due rossi sono entrambi due rossi e sono entrambi ottenuti da uve negro amaro differenza qual è abbiamo fatto due minificazioni diverse una è una particolare macerazione nella maniera tradizionale che è quella del negro amaro meat dove meat sta per carne quindi noi lo consigliamo in abbinamento con la carne nell'altro caso invece dove parliamo di negro amaro fish quindi da servire freddo quello che si è voluto fare è fare una particolare macerazione a freddo che permette al vino di essere servito freddo e di combinarlo con i piatti a base di pesce avete capito un vino rosso fresco per il pesce ma che novità fantastica assolutamente da provare e poi passiamo ai tre rossi quelli insomma un po più corposi diciamo così e il primo è il nero di troia anche lui a 9 euro e 50 premessa che questa è la linea otre ovvero la linea di alta qualità dell'azienda naturalmente la linea otre dove noi come l'autre sta a rappresentare un contenitore infatti nella linea otre conteniamo i nostri vini migliori nel caso del nero di troia non potremmo che contenere il varietale più caratteristico del nord della puglia che è appunto il nero di troia che è il nome della varietà delle uve nero di troia è proprio l'uva uva di troia fantastico da abbinarsi a dei bei piatti sostanziosi di carne ma anche di formaggi ma che ve lo dico a fare provate sperimentate così come dovete assolutamente sperimentare l'aglianico prossimo vino anche lui al prezzo di 9 euro e 50 aglianico il vitigno re del sud italia infatti è un vitigno che ha una delle caratteristiche dal punto di vista della longevità veramente straordinaria fate un tannino un'acidità che permette a questo vino di stoccarlo in cantina e di invecchiarlo per oltre dieci anni qualità e caratteristiche che ritroviamo almeno in parte anche nel prossimo vino sempre al prezzo di 9 euro e 50 un primitivo beh non puoi parlare di puglia non parlare di primitivo questo vitigno che ha come dire sconfinato ha superato tutti i confini è arrivato fino alle americhe dove è uno dei vini veramente più apprezzati e poi abbiamo due prodotti di nicchia molto particolari il primo non è vino ma arriva dalle stesse uve stiamo parlando del mosto cotto questo al prezzo di 9 euro mosto cotto che non è altro che mosto di uva concentrato ne viene fuori un prodotto che non ha alcol ma è una concentrazione un'esplosione di zucchero e di dolcezza che è un perfetto abbinamento per le insalate come se fosse un aceto balsamico ma anche per tutti i dessert e concludiamo con il passito vera chicca perché è un passito tutto particolare al prezzo di 12 euro e 50 tutto particolare perché l'azienda ha scelto di fare un passito innanzitutto di uve falanghina ma poi di fare un vino passito da una gradazione alcolica molto bassa per quello che è il passito infatti è un passito che fa solo 14 gradi veramente incredibile molto beverino gradevole non soltanto per il dolce ma per tutto il pasto insomma gusti e sapori che sono qua apposta per sorprendervi questa è tutta la linea tutti i vini al prezzo di 9 euro e 50 tranne il mosto cotto che costa 9 e il passito che costa 12 euro e 50 scoprite sul nostro sito good shopping punto tv questa fantastica azienda le cantine teanum grazie mille angelo grazie alessio e grazie a tutti voi alla prossima good shopping il bello e il buono della vita ciao